Mi piace che la fate insieme perché la vittoria è più del collettivo di questa. Mi piace che la facciamo insieme. Ma devo tradurre pure l'italiano. No, dico una vittoria proprio del collettivo totale. No, sì, sicuramente. Penso che fino ad ora tutte le vittorie che abbiamo fatto sono state di collettivo. Quindi per vincere questa partita abbiamo bisogno di 11 giocatori più quelli che entrano nella panchina. Ce l'abbiamo fatta perché incontravamo una grande squadra. Abbiamo dimostrato anche noi di essere una grande squadra. Abbiamo meritato la vittoria. Siamo veramente felici di andare a Wembley a giocarci questa semifinale. L'hai vista la parata che ha fatto lui su De Bruyne? Sì, ma io già un'altra volta ho detto che dal campo vedo tutte le palle che sono gol. Quindi ho dei sbalzi di emozioni perché da dietro dico è impossibile che ci arriva adesso. E invece ci arriva. Abbiamo un grandissimo portiere, lo dimostra partita dopo partita. E in queste competizioni penso che sia un valore aggiunto perché le altre squadre sono tutte forti. È normale che soffri e un portiere forte ti fa vincere le partite. E anche il centrocampo non mi sembra male. Abbiamo un fenomeno! Abbiamo un fenomeno al centrocampo. La vittoria è di squadra. Siamo stati bravi e siamo straordinari. Guarda, questo gruppo non molla niente. Adesso voglio andare dentro. Fate presto. Voglio andare dentro a festeggiare un po' con le mie campagne. L'ha raccontata lui la parata, ma raccontacela anche tu quella su De Bruyne. Guarda, poi io avrò tempo di rivederla e io cerco di dare sempre il massimo, di dare il massimo per questa squadra perché lo merita, perché lo meritano tutti gli italiani. Adesso speriamo di realizzare il sogno di tutti gli italiani. Ultimissima cosa avete provato al fischio finale dopo quei minuti di sofferenza. Ho provato emozione perché è una mia prima competizione importantissima e quindi ho provato emozione indescrivibile. Ho pensato alla mia famiglia, alla mia fidanzata che sono a casa e ho provato quello. Adesso festeggio un po' con i miei compagni che sono straordinari. Meritantissimo. Grazie. Ciao.